Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Sarà una donna il nuovo procuratore capo di Arezzo. La votazione questa mattina da parte del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Gian Federica Dito, attualmente sostituto alla Procura di Roma, è stata appunto nominata con una sola astensione procuratore capo di Arezzo. È stata PM nel processo sull'assalto alla sede della CGL, nel quale l'aretino Franceschi, lo ricorderete, venne condannato a otto anni e due mesi. Dito si è anche occupata del caso di Walter Bayot, ufficiale della Marina, accusato di spionaggio. Prende il posto di Roberto Rossi, che circa un anno fa ha assunto l'incarico di procuratore generale ad Ancona. E adesso l'appello davvero singolare di una 94enne aretina, che in questo momento però si trova in Francia, ma sta avendo delle difficoltà per tornare nella sua Arezzo. Mi piacerebbe molto abitare ad Arezzo, sì. Ho già abitato parecchi anni con Adam e ci torno molto volentieri. Il sogno della signora Margherita è quello di tornare ad Arezzo e trascorrere gli ultimi suoi anni accanto ai suoi amici e lasciare così la cata di riposo in Francia, dove attualmente si trova un sogno che però rischia di non potersi realizzare. È quel principio di dignità che anche la Costituzione richiama, cioè è una persona che il fatto non ha figli, ma questo non vuol dire che non aver affetti. Margherita Moggi ha 94 anni. La sua è stata una vita nomade. Originaria di Genova, ha lavorato per le Nazioni Unite e vissuto in molti paesi. Una vita di viaggiatori per il mondo, dove però in ogni posto hanno comunque creato dei legami. Ad Arezzo ha vissuto negli anni 2000 assieme al marito inglese, poi si è trasferita in Francia. Qualche anno fa è rimasta vedova. In seguito ad alcuni problemi di salute è stato nominato un amministratore di sostegno e sono stati congelati beni. Attualmente si trova in una struttura per anziani, ma da alcuni amici. Ad Arezzo li hanno già trovato una sistemazione. Tornare ad Arezzo non vuol dire andare a vivere da sola. Gli amici hanno trovato quindi una casa, una persona che può stare con lei notte e giorno. Ha un mondo affettivo a cui vorrebbe quindi tornare. Da quando poi è riuscita a rimessere contatto con gli amici è molto più serena. Prima si sentiva in realtà abbandonata in un pezzo di mondo. Una situazione che non riesce però a sbloccarsi. Il legale ha così scritto a consolato e d'ambasciata e proprio nelle ultime ore è stata ricontattata. L'auspicio adesso è che possa aprirsi uno spiraglio. Sarebbe lì una cosa meravigliosa. Abusi edilizi nei pressi dei corsi d'acqua all'origine di eventi estremi come le esondazioni. Sono partiti da qui i controlli da parte dei carabinieri forestali del nucleo di Arezzo sul fronte appunto del rispetto delle norme contro l'abusivismo edilizio, soprattutto in zone che sono idrogeologicamente fragili. L'ultimo intervento riguarda l'area del rio Rigutino nell'omonima frazione alle porte della città di Arezzo, in cui è stata riscontrata la presenza di varie opere realizzate, dicono i forestali, in assenza di autorizzazioni e concessioni. Le denunce in 16 mesi sono state 32. In particolare, sottolineo dal nucleo di Arezzo, le aste fluviali del reticolo del canale Maestro della Chiana sono state negli anni oggetto di opere abusive che ne hanno appunto diminuito la capacità di contenere una portata d'acqua importante legata ad eventi meteorologici come insomma siamo stati abituati ad assistere negli ultimi anni. E adesso invece torniamo a parlare del cantiere di via Fabio Filzi. I residenti hanno presentato un secondo esposto, ma intanto il Comune ha concesso un'altra proroga. Ad oggi in sostanza non è stato fatto nulla, lamentano i residenti di via Fabio Filzi che hanno nuovamente presentato un esposto, il secondo, nell'arco di un mese e mezzo. A preoccupare le famiglie che sono confinanti con la struttura dove dovrebbe sorgere la nuova caserma della Polizia Municipale di Arezzo sono infatti le conseguenze che potrebbero avere le mura delle loro proprietà. Come testimoniato dalle foto allegate al documento inviato, le fondamenta sono ormai diventate da tempo degli immensi vasconi di acqua piovana e acqua di falda che risale. Resta poi la preoccupazione per gli insetti che potrebbero prolificare con l'aumento delle temperature e i cittadini denunciano anche spaccio, degrado e consumo di droga all'interno del cantiere abbandonato. Intanto dall'amministrazione comunale, proprio in questi giorni, è arrivata una seconda proroga affinché la ditta che ne è proprietaria e che deve portare a termine i lavori per la futura caserma ripristini la sicurezza della struttura. La proroga di dieci giorni è stata firmata lo scorso 20 aprile. Spetterà il raggruppamento di imprese, tra cui una banca che ha la proprietà dell'immobile, rimuovere le acque stagnanti, ripulire l'area di cantiere da sterpagli e rifiuti ed ottemperare a quanto richiesto per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori. Ad oggi però nulla si è mosso. Sul tema intervengono anche i consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Marco Donati e Valentina Sileno dall'amministrazione Ghinelli. Dicono ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema. Abbiamo rilevato a seguito delle nostre interrogazioni la preoccupazione dell'assessore Sacchetti e evitato in entrambe le occasioni di alzare i toni, fidandoci poi delle risposte ricevute. Oggi, dopo aver constatato il pesante ritardo nel ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere, ci aspettiamo che la Giunta si faccia seriamente carico dei problemi emersi. E domani la seduta consigliare ad Arezzo aperta per parlare del progetto di rifacimento di piazza Saione. Anche lì, lo ricorderete, è nato un comitato soprattutto per difendere la presenza degli alberi che si trovano in questa zona, ma in un certo qual modo anche per contestare questo progetto di rifacimento. La seduta aperta inizierà dalle 18.30, mentre il Consiglio Comunale in forma ordinaria si riunirà dalle 14.00. Parliamo adesso invece di elezioni europee. Come sappiamo sono tre i candidati a retini, appunto in corsa per le prossime elezioni, che si terranno l'8 e il 9 di giugno. Questa sera conosciamo l'Avvocato Spigliantini. C'è una frase molto bella di Sant'Agostino, è in latino, però la traduco. Nos sumus tempora, quales nos sumus taglias un tempora. Cioè, siamo noi i responsabili dei tempi che viviamo. Se non ti impegni, poi non ti puoi lamentare che le cose vanno male. Luciano Spigliantini, Avvocato e Segretario Provinciale di Arezzo del Partito Repubblicano Italiano, è uno dei tre a retini candidati per le prossime elezioni europee, che si terranno l'8 e il 9 di giugno. Il suo partito è inserito in quota PRI nella lista della Circoscrizione Centro Italia di Azione, il partito fondato da Carlo Calenda. Il PRI ha un radicamento importante sulla costa toscana, ci racconta, ma anche a Carrara e Montecatini. Scopo di questo impegno politico, dunque, sarà anche portare consensi, anche dal territorio a retino, al Partito Repubblicano Italiano. Le mie possibilità di farcela sono ovviamente limitatissime, se non nulle. Però ho sempre pensato che un buon soldato non si domanda se vincerà o no la guerra, ma se la causa per la quale combatte è giusta oppure no. Perché questa candidatura? Essenzialmente per dare visibilità al Partito Repubblicano, che è un'offerta antica per una domanda che c'è, ma che non sa di questa offerta politica. Molto interessante e, se trovo un po' di persone disposte ad ascoltarmi, sono pronto a raccontare che cosa vuole il Partito Repubblicano, qual è la sua storia, ma soprattutto quali sono i suoi obiettivi. L'idea di Europa è molto precisa. Posso prendere un esempio tratto dall'etologia. Il falco, da che mondo è mondo, ama mangiare gli storni. Sono il pasto preferito del falco. Però gli storni non sono contenti di essere mangiati dal falco e dunque col tempo hanno elaborato una loro strategia che è fatta di un volo compatto, quasi un globo, nel quale il falco non riesce ad entrare. Tutto risolto? No, perché il falco a sua volta non è contento di questa situazione. Il falco vuole mangiare. E a sua volta ha elaborato una controstrategia che è fatta di picchiate improvvise virate, finché non c'è uno storno che perde la testa, esce dal gruppo e pensa di salvarsi da solo. Ecco, quella è la merenda del falco. Uscendo dall'allegoria possiamo pensare anche all'esperienza della Brexit. L'abbiamo visto tutti. È un esperimento che è fallito miseramente e pensiamo che la Gran Bretagna è comunque uno Stato legato al Commonwealth. È dunque una rete di relazioni enorme. E se non ce l'hanno fatta loro, figuriamoci l'Italia che fine farebbe in poco tempo. Dobbiamo essere più capaci di stare in Europa. Faccio un esempio. Una volta c'era un fondo europeo, penso ci sia ancora, si chiamava FEOGA, che si occupa dell'agricoltura. FEOGA vuol dire orientamento e garanzia. Fondo europeo, orientamento e garanzia. La garanzia sarebbe la famosa PAC, quella che prendono gli agricoltori. Ma c'è la fase garanzia che noi non abbiamo mai saputo sfruttare bene, perché quella per ammodernare gli impianti, per fare meglio le cose, e quelle risorse sono sempre state distrutte. Dunque, quando diciamo in Europa noi prendiamo poco, vuol dire che non siamo capaci a prendere. Dovremmo essere meno pressappochisti. E' come picchiare la televisione quando la nazionale perde, no? Ecco, più o meno è quello d'atteggiamento che abbiamo in genere. Che Europa allora vorrebbe il Partito Repubblicano? Il Partito Repubblicano, Mazzini, la Giovana Europa, non è solo un insieme di stati, è un'idea. E' un'identità europea, dunque, che passa attraverso anche le diversità delle lingue, delle espressioni culturali, del modo di vivere, che è ovviamente relativo, ma noi dobbiamo riuscire ad apprezzare queste diversità, che sono un punto di forza, non di debolezza. Il Governo ha deciso di declassare questo ufficio, una decisione che mette a rischio l'operatività di migliaia di aziende, e di lavoratori di queste due province, Arezzo e Siena. In questo caso, l'ufficio dogane, appunto, di Arezzo e Siena, svolge un ruolo strategico per l'economia e lo sviluppo e deve essere potenziato e non ridimensionato. Con queste parole, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli, e la Presidente della Quarta Commissione, Lucia De Robertis, assieme al gruppo del Partito Democratico, hanno proposto al Consiglio regionale una mozione a difesa dell'ufficio dogane di Arezzo e di Siena, mozione che poi ha avuto il voto favorevole di tutta l'Aula. Questa sera in onda su Arezzo TV la terz'ultima lezione del programma di educazione civica, voluto dall'Associazione Intratevere Tarno, che praticamente si appresta a concludere, appunto, è il terzo anno di questo importante progetto. Ogni lezione è una cinquantina circa, due classi di ragazzi in presenza, oltre a non so quanti altri collegati in streaming, e tutti attenti. Ora, questo è un ritornello che ripeto spesso, però è una cosa spettacolare. Non sentire tanto brusio, non sentire, non vedere i telefonini che circolano. Su materie, onestamente, abbastanza, se volete, anche un po' noiosi, quelli inerenti all'educazione civica è una soddisfazione. È quasi al termine, il terzo anno di lezioni di educazione civica organizzate dall'Associazione Intratevere e Tarno negli istituti superiori dell'Aretino, in collaborazione con il provveditorato agli studi di Arezzo. La terz'ultima lezione è stata tenuta dal professor Alessandro Artini al liceo scientifico Francesco Redi, argomento la sociologia della politica. Io partirò da Max Weber, che è uno dei padri della sociologia, poi affronterò un tema come quello dell'ipocrisia, su cui ha scritto un'importante filosofa contemporanea, poi prenderò, diciamo così, alcuni concetti chiave della politica e della sociologia, il concetto di nazione e da un punto di vista sociologico e politico il tema dell'Europa. Voi siete stati sempre molto equidistanti da tutte le posizioni politiche, oggi però la politica è molto fluida, molto meno netta come posizione rispetto a 40 anni fa, anche 30 anni fa. Tanti ragazzi dicono, ma questi politici sono tutti uguali. Qual è il sentimento che vorreste che invece venisse innescato grazie anche a queste lezioni di educazione civica? Che i politici non sono tutti uguali, intanto perché sono persone diverse l'una dall'altra e come persone c'è chi è preparato, non onestamente non moltissimi, c'è chi lo è poco, c'è chi non lo è per niente. Distinguere tra queste categorie, beh, sarebbe già uno straordinario risultato se riuscissimo a raggiungerlo. Seconda cosa, le persone possono essere del tutto degne, capaci, intelligenti e affidabili a seconda delle loro opinioni. Se io ho un'opinione, semplifichiamo di destra, troverò affidabile, capace e competente almeno uno dei politici di destra, ma la stessa dignità e la stessa importanza ce l'avrò a sinistra se ho un'opinione diversa di sinistra. Alla base di tutto però c'è la competenza. Gli ultimi due appuntamenti saranno il 20 di maggio all'Ipsia Vasari con la storia del patriarcato, del matriarcato e le grandi donne della retino. Quest'anno scolastico si conclude con il 27 di maggio una lezione su come è mutato il mondo della comunicazione. Shopping, musica e intrattenimento per festeggiare la primavera. Cortona si prepara ad accogliere Mamma Mia! la nuova iniziativa targata ConfCommercio che celebra la primavera e omaggia tutte le mamme in occasione appunto della loro festa. L'evento organizzato con il patrocinio e il sostegno dell'amministrazione comunale di Cortona e della regione si terrà proprio domenica 12 maggio nel centro storico etrusco con un'anteprima nella serata di sabato quando alcuni locali accoglieranno i giovani con selezioni musicali coinvolgenti a cura dell'associazione Cauta. E durante il prossimo fine settimana torna anche la maxi area pedonale per il centro di Arezzo. Strade chiuse e tavoli di bar e ristoranti apparecchiati anche all'aperto nel centro storico aretino. Torna così dal 17 maggio al 14 settembre nel fine settimana la grande isola pedonale estiva. Come negli anni passati a partire dal 2021 il comune infatti ha concesso questa possibilità agli esercenti e in particolar modo a quelli della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande. Sarà dunque istituito il divieto di transito e sosta dei veicoli dalle 19 alle 24 per il venerdì e il sabato sera i due giorni della settimana che coincidono con le serate di maggior afflusso nel cuore della città. Anche quest'anno poi via Vittorio Veneto nella parte più vicina al centro di Arezzo avrà la sua area pedonale come accaduto la scorsa estate e come aveva già richiesto nel mese di febbraio Confcommercio accogliendo le richieste di numerosi esercenti della zona. L'obiettivo infatti è quello di rivitalizzare l'area. La chiusura al traffico seguirà un calendario ben preciso dalle 19 alle 24 dei giorni 14 e 28 giugno e poi 5 e 12 luglio ed interesserà il tratto di via Vittorio Veneto compreso tra Campo di Marte e Piazza Rismondo. Per quanto riguarda invece il centro storico particolari condizioni saranno comunque garantite per i possessori dei permessi residenti nella ZTL B ed A e per i residenti del centro storico ci sarà anche un parcheggio riservato. La mostra del giornalista Remo Croci ieri, oggi e domani ha impreziosito l'ultima edizione della Fiera Antiquaria. Vediamo. Io mi sono sempre diciamo che un po' così rammaricato di essere stato in posti d'arte come Arezzo ad esempio e di aver raccontato altro cioè il brutto della vita della cronaca e allora mi sono sempre detto che andava ecco recuperato questo errore che la professione ti metteva di fronte. Per anni è raccontato in televisione la cronaca nera italiana e le vicende più oscure della storia del paese. Adesso Ramo Croci giornalista scrittore ha lasciato il microfono per impugnare il pennello. Ed è bello ed è bello perché lo faccio con la passione lo faccio con l'emozione e poi quando ecco siamo di fronte a questi colori insomma credo che che si apprezzi veramente insomma la vita perché la vita è la bellezza. All'Hotel Vogue di Arezzo in occasione della fiera Antiquaria di Maggio l'estemporanea di pittura dal titolo Ieri, Oggi, Domani. Il percorso artistico di Ramo Croci San Benedettese e Doc attraversa il mare ma non solo passa anche dall'astrattismo e dalle installazioni un percorso segnato da una forte componente emotiva. Non si rinnega nulla del passato io sono molto contento di aver fatto quel tipo di percorso con Mediaset ho avuto la possibilità veramente di conoscere tante persone tanti casi di cronaca nera giudiziaria di cui sono occupato e tutto diciamo è servito per avere sempre un'esperienza che non è mai fine a se stessa ma anche qui nel campo dell'arte quell'esperienza la conoscenza delle persone mi ha aiutato ora anche a conoscere altre persone e quindi ecco due modi di vivere diversamente ma che poi alla fine confluiscono sempre nel rapporto personale una cena a favore del Calcit si svolgerà il prossimo 10 di maggio al centro polivalente di Subbiano prima un concerto da parte di alcune band arettine coralli amnesia recover band e safinilla band e poi spazio al ballo la cena inizierà alle 20 e tutto il ricavato andrà appunto a favore del comitato aretino lotta contro i tumori per prenotare la cena vedete i numeri in sovra impressione e siamo al calcio ci sono due notizie davvero importanti che riguardano l'Arezzo quella calcistica il fatto che è andata male nello scontro contro la Juventus next gen e quindi gli amaranto fermano qui la loro corsa appunto ai playoff e poi la notizia delle ultime ore la rescissione del contratto con paolo giovannini un vero terremoto quello che ha investito l'Arezzo nelle ultime ore prima il k.o. contro la Juve next gen che ha sbarrato la strada agli amaranto dei playoff nelle ultime ore la notizia dell'interruzione del rapporto con paolo giovannini che fino a ieri aveva ricoperto l'incarico di direttore generale con un contratto decennale che legava la figura del dirigente alla squadra giovannini era anche consigliere d'amministrazione e la notizia secondo molti porta allo scoperto una frattura che ormai era tangibile da settimane non se ne fa menzione però nel comunicato congiunto di società e dirigente che leggiamo integralmente dopo due anni di uno straordinario percorso insieme la società sportiva Arezzo e Paolo Giovannini hanno deciso di comune accordo di interrompere il rapporto di lavoro a partire da oggi la decisione si ribadisce consensuale segue alla comune presadatto che la società ha bisogno di una organizzazione diversa per proseguire gli obiettivi sportivi e aziendali dichiarati nel comunicato un virgolettato anche del presidente e del dirigente Paolo Giovannini dice manzo che io ho fortemente voluto ha contribuito alla costruzione di una società organizzata che ha conseguito i risultati sportivi rispettando i budget economici e per questo lo ringraziamo ringrazio il presidente ribatte Giovannini e l'amministratore selvaggio per l'opportunità concessami e per avermi fatto lavorare in completa autonomia in questi due anni nei quali ho dato tutto all'Arezzo ricevendo tantissimo come recita un vecchio detto prosegue Giovannini non importa cosa trovi alla fine di una corsa l'importante è quello che provi mentre stai correndo per quanto mi riguarda ho provato emozioni straordinarie per questo ringrazio la società i collaboratori i tifosi inclusi i sostenitori di orgoglio amaranto sempre vicini al club in maniera costruttiva che mi hanno fatto sempre sentire importante adesso le strade si separano ma i tifosi possono stare tranquilli questa proprietà regalerà al cavallino un futuro solido e ambizioso come questa piazza merita un evento sportivo unico nel suo genere all'insegna dell'amicizia e del divertimento friendly match si svolgerà domani giovedì 9 maggio presso lo sport club Castiglione Fiorentino e vedrà affrontarsi si tratta ovviamente di una partita amichevole la rappresentativa dei sindaci contro la Clericus Arrezzium la squadra composta da sacerdoti del territorio e allenata da mister Mario Palazzi il calcio di inizio è previsto per le 16 e a darlo sarà proprio il vescovo della diocesi di Arezzo Andrea Migliavac l'ingresso è libero per tutti è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lasciamo allora come ogni mercoledì alla consueta lezione di educazione civica questa sera Alessandro Artini ci parlerà della sociologia nella politica arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.